Sarà allo sport il filo conduttore della diciottesima edizione di ragazzi in aula organizzata dal Consiglio regionale in collaborazione con l'ufficio scolastico regionale aperto agli studenti delle scuole secondarie. Nell'ambito degli Stati Generali dello Sport, di cui l'Assemblea regionale promotrice e di Torino Capitale Europea dello Sport, i progetti di legge riguarderanno il mondo sportivo dal contrasto al doping, alla prevenzione sanitaria, alla valorizzazione degli impianti.